Il Genio Civile ad Ariano Irpino rischia la soppressione, non si può fare nulla per evitare ciò? Sono al momento indiscrezioni questa della paventata soppressione. Ci sorprende molto perché in effetti di recente la Giunta Caldoro di fatto aveva deliberato, aveva licenziato una legge che istituiva il settore autonomo del Genio Civile ad Ariano. Questo fatto che si incomincia a dire questa cosa ci crea qualche imbarazzo. Noi ci siamo dati da fare e il Presidente del Consiglio Comunale nel convocare il Consiglio del 21 di sabato prossimo ha subito messo all'ordine del giorno una delibera di voti alla Regione per ampliare, così come la legge era prevista, ampliare quelle che erano i comuni, la sfera dei comuni facenti parte del Genio Civile di Ariano. Ma l'ampliamento che presenterete in Regione potrebbe poi evitare questa soppressione? Potrebbe essere una soluzione? Assolutamente sì, assolutamente sì perché appunto si amplia un bacino come peraltro già l'Ufficio di Ariano aveva in qualche modo già fatto, aveva già presentato un'idea di ampliamento ma proprio perché c'erano affinità tra questi ulteriori comuni che potevano far parte del Genio Civile di Ariano perché veramente per oggettività erano molto vicini al nostro territorio.